Ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato in strada alle 14 di ieri pomeriggio. Secondo la sua versione dei fatti, due individui lo avevano immobilizzato nel parcheggio di Viale Malta sottraendogli dal borsello la somma appena prelevata al banco, mat 700 euro. La versione fornita con dovizia di dettagli da un 41enne residente in Valtrebbia è risultata ai militari poco convincente, il suo atteggiamento era sospetto. Messo alle strette, l'uomo ha raccontato la verità. Il suo stipendio, appena prelevato, era finito nelle macchinette di una sala giochi. 700 euro guadagnati al lavoro e delapidati in un'ora. Un istinto irrefrenabile frutto di un dramma più ampio che lo ha costretto ad inventarsi di essere stato rapinato del denaro per poi cedere e raccontare la mara verità. Per lui è scattata la denuncia per simulazione di reato e per procurato allarme.